oggi simone come lorenzo con pixart ha ricreato il proprio disegno in questo caso andando a cercare uno sfondo che riprendesse l'immagine che lui aveva costruito scontornando il lupo che aveva disegnato e utilizzato all'interno del proprio elaborato e poi in classe insieme abbiamo scattato una foto che riprendesse la posa del disegno e peccato adesso per la privacy ho dovuto oscurargli il volto ma chiedete a simone di farvi vedere l'originale perché è veramente bellissimo è la stessa attività che stavamo cercando di fare in questi giorni anche con altri alunni abbiamo visto che vengono delle cose veramente carine e ci apre insomma a tantissime altre sperimentazioni e tantissimi altri usi appunto di quest'app grazie a tutti Grazie a tutti.